Ben trovati ragazzi, qui Lega Gamers, io sono Joe The Summoner, e io sono Tao, presenta tu io continuo ok, siamo praticamente adesso come eh, guarda, ho messo giù il Joypad e mi è partito l'analogico spostando il controller no, non vale, no, 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 no ma insomma vabbè eccolo attenzione basta che salta mi fermo bravo che evita così intanto è arrivato dove tu guarda lo guarda lo e tentenna e non la nata ultima ultima per cioè ragazzi sta ancora giocando lui è vero non lo vedete lo vedete guarda come fa 4 a testa perchè molto guarda è molto difficile guarda guarda io non c'ho bisogno di esame queste cose tranquillo destra sinistra ma che delusione era bloccato non era che non c'è arrivato vabbè ho capito ma guarda stiamo per morire stiamo per morire guarda quindi sì c'è sempre qualcosa anche se muori così 2 vabbè dai 2 e proprio easy e 2 easy non manca il 3 easy aspetta ecco a me sti cosi ti fanno male ecco guarda 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 doveva andare destra no penso stiamo a 3 easy e niente qua ecco il quarto mamma mia pare è flasciante studio è flasciante sto pezzo qua soprattutto è flasciante doveva andare là sotto ci sta allora davanti se casco di sotto perché là sotto ci sta lui c'è lui che ti fa salvare qua mi sa che ti porta in quell'altro posto magari c'è una cosa segreta qualcosa ma qua casca tutto ma che è qualcosa capisci che in mano è passato a gio in modo da comincio tanto vale devo andare da lucifer e ben ritrovati cazzo ridi dobbiamo rifare tutto ma ricominciamo ma che ricominciamo e allora che mi fai tutto eh ma mi fa far dall'inizio credo no si da qua è vero allora quasi quasi sei proprio guy allora dai ma cerco di rifare tutto boh intanto prendi questa intanto prendi questa guarda eh perché lui c'ha solo il dono del salto e non sa fare nient'altro boh 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 eh no pensavo boh oh guarda dio caro e stiamo qua da due che film godo se te spingete sotto mamma mia guarda noi ragazzi ce la faranno i nostri eroi a uscire a questo gioco di a questa come la vuoi definire sta cosa flesciante come la vuoi definire boh in mezzo tipo hanno fatto ringo pipo coltetaglie ringo pipo porca troia flesciante e tre dai ancora uno e tocca a tao eccolo 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 mamma 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 paura eh eccolo che se lo prende ringrazio che non ti ha sputato di sotto e e e e dai 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 vai buono 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 se arriva al checkpoint vai vai arriva al checkpoint così almeno per me è easy vai vai non saltare a buffo vedi io la potrei andare no 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 non ti fa andare non ti fa andare è bloccato mamma mia ma domanda cosa è successo non si sa questo è proprio quando uno c'ha c'ha erbucio aperto no 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 ma prima o poi finisce quindi sei già qua dai che culo tocca a me ecco lì ecco lì ma vedi c'è un'altra cosa qua su cui saltare in caso però lì cifre stava a destra quindi andiamo ma andiamo di là a salvare per favore ovunque cioè manca manca solo che qua i nuvolette d'attaccano spuntanei mele c'è dai su è flasciante poco flasciante stupor muorici e si è muorici no ma no ma perchè dai ma basta ma due veroi non ci vado ci vado proviamo due vero ma qua se al terzo con un segno trattata fatta forma questa è da rompere buono io non rompo nulla mai buono così a destra no ma io non da se vedi qua non vuoi da luci no 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 io sono un progio e vabbè dopo dobbiamo rifà tutto però portaci tu qua guarda guarda è così che funziona wow oddio santo ma no ma dai 3 però sono arrivato dai dai che poi ricominci da qua e non so come funziona questo si dice culo ma dai boh secondo te devo saltare qua ma io non ci sto capito ma magari mi danno un cuore ma è vero cazzo cioè devo saltare mezzo o devo saltare dall'altra parte eh no devi saltare là e dopo dall'altra parte quando vedi che è dritto tipo così bravissimo grande 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 non ci sto capì niente non ci sto capendo più una mazza io quali così scorso mamma mia vabbè rettumo bravissimo non te l'aspettavi eh no occhio c'è lo sfondo che comunque ti rincoglioni eh no eh vedi se c'è un cuore se vedi che è rosso scappa ok ok e morti a tutta la situazione ma che devo studia qua è il panico mamma mia mi sembra più difficile stavo per cascare che è qua che è qua eh qua non lo so forse riesce a correre eh salta bravo esatto salta tutto di là ma che roba ci abbiamo fatta grande rompi tutto ammazzavo che che vita eh stai andando dentro ci sto andando dentro vabbè è così no questa è l'ultima vita faccio un complimento e cade no ahi che è qua che sta e quindi abbiamo perso abbiamo perso sta salvando comunque si si a grande allora siamo tranquilli perché almeno siamo tranquilli ehm tieni e vabbè va bene grande comunque ha fatto una maratona da paura mamma mia c'è già il peggio senti che che roba eh eh di come come è sciolto è sciolto scusami eh mamma mia è stata una sudata l'ammetto va bene allora ma perché lo sfondo a me mi rincoglioni no no è vero non riesce a capire poi c'è quella pattina che rimane sempre fissa quindi cioè io dico ho perso già già dieci neuroni neuroni proprio se sono ammazzati da solo vedendo sta cosa ok oddio non mi ero accorto che ci sono le no quello che ha crolla ma io oddio 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 eccolo oh 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 attenzione che fortuna mamma mia ho potuto fare qualcosa di carino pure io cioè ma temmai io penso che stanotte comunque ma sembra vali nooo si è eh si comunque penso che stanotte dicevo quando si addormimo penso che faremo poco si addormimo si penso che facciamo po' uno di quei sogni strani tipo capito guarda di roba nooo ma perché vai quota 2 sembrava lì eh mo pure sembravi lì eh boh boh grande boh boh beccato quota 3 vai l'ultima oh Joe mi raccomando l'ultima vita datevi gioca tutta boh baffanculo boh pezzi di merda ultimi guarda te guarda devi fare così devi fare comunque comunque è una cosa già adesso è una cosa che ho visto in giro che dicono che non sono neanche così tanto facili le sezioni di platia platform piatto se io faccio tutto un salto no non ce la fai se c'è c'è un motivo c'è un perché eh se no ti prende un cuore si vai occhio scappa bene in due in due combo 3 oh ma sti pochi fatti qua c'è un motivo eh ah ma aspetta ma tu ti ne hai premuto lui si esatto faccio tipo così capito e ti ne hai premuto no tengo premuto e vedi mi rallenta il salto ok allora devo e ancora devo fare pure io sta cosa eh si eh è comodo è una l'ha usata così fai i salti più precisi eh si eccolo oh grande mitico tutta in una sezione magari oh guarda c'è nanna eh si oh c'ha paura voglio fa un balletto me ne occuperò io dai troviamo Enoch chi è? eh questa è una ragazza? è tipo le immagini di Sailor Moon quando si travestono no? sei presente? sì sì ho presente eh beh però cioè è presente ma non è che guardavo Sailor Moon come te io ci guardavo le amiche mie che stai guardavano Sailor Moon io gli faccio compagnia e ti piaceva di più a te però Sailor Moon comunque cioè ciavalli le sue cose carine a me era inquietante alcune super mi ricordo delle super delle ultime ragazze che erano fighe tipo urano slavice eh sì sì ma sai solo perché a me piacciono le super le specie magie cose eh io scommetto che te 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 viste sei l'ormone quelle entai no e dici che non fai eh esiste eh sì che esiste eh conosci eh sei l'urbanus no non conosco eh non conosco non sei pratico no non seguo orientare mi spiace non ti manco un curiosito ma no non c'è manco pensato ah sì ti vedi tipo i griffin cosa che fanno roba no non vedo ste robe cioè qualche immagine è mai capitata di rivederla però non è che vado lì a cercare ma qui tu sempre lì se ne sono davanti a sto no no se se guarda se eh no 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 però so che ci stanno ho visto ti ho detto ho visto un un ma dove se va? non mori ah devi salire sopra e ora saliamo sopra ho visto un entai che me mi incuriosiva che moto dico pure qual è aspetta qua eh oh vedi oh ma che è come si gira sto coso è salta bene quando sta per arrivare ok e allora chi si chiamava aspetta urutsuki dojin li fa pura memoria no 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 sentite no un sud di dojin cosa penserà cosa del dojin era una cosa del genere concentrati qua non sto a pensare alle donne perchè se no non so di più su cartoni animati no per curiosità io ho visto e ti dico comunque che è doppiato doppiata la grande non me lo immaginavo che era c'è doppiato cosa se è un entai si 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 eh non me lo immaginavo ti giuro mannaggia o invece proprio doppiato eh cosa penserà la gente di te oh penso che tu penso che c'è pure ragione eh tu dici che non pratichi ma non ci credo l'avrai visto uno l'avrai visto nella vita mi ricordo uno famoso la clinica dell'amore tipo molti anni fa vedete questo manco lo conoscevo è una cosa comica però cioè una cosa un po' particolare comunque pensiamo a sha dai eh dai pensiamo a eh vabbè perchè tanto il gameplay è quello eh ah si bravo devi uscire vado qua su no no io vado qua su ho detto ah bravo vedi ma che hai fatto i colori flescianti ma che so non si capisce niente mamma mia poi c'è dire ma che è vabbè bello ma io ma che aiuto qua su cazzo cioè non ci sto a capina mazza eh puoi cadere nel centro se esatto preciso cioè penso che fosse una piattaforma qua aiuto poi cadi giuro ti devi fatto tutti finisce sta cosa ma ando sto ma ando sto ma ando sto ma ando sto ah eri già oh combatto no bellissimo vabbè sono già morti però è forte eh questo è quello questo è quello questo è quello è uno quadrato che hai chiesto cos'è l'ho è preso c si oddio no non so fare niente io ho fatto sì 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 se io già ero morto sì 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 che storico sì pum vabbè easy quella lenta qual è? quella lenta è quando così ah ok qualcuno qua intorno ci sta una sfera rossa da tocca sì vabbè comunque è facile sto personaggio occhio molto fa correre nooo sono da solo tranquillo il joystick ha appoggiato sul divano oh ah ma c'è qualcosa di diverso qua anche il gabbiano il gabbiano lo ammazziamo così po 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 attenzione i fuochi fatti ma questo sì penso che devi ammazzare tutto ma para sto personaggio pure no ah no eh vabbè niente vabbè vado per arrivare fra un po' eccola e dai e verso un nuovo livello è finito meno male va vediamo una cosa meno flasciante ecco appunto grazie gioco vabbè cuori sì anzi non ci sono cuori perché sennò ti dovrebbero fare l'armatura quella nera e mi sa che non te la fai eh ma la fa la super seconda cacchio è la cosa di michael jackson guarda tenendo premuto fa tutta sta cosa no come no c'è ragazzi c'è break vai di break no no come che ha fatto scusami questo che non c'è facendo l1 r1 no come fè e inizia come si fa la super cioè tipo la crema non so se è una super mamma la fa mamma la fa qualche nemico peccato che non ti fanno prendere i cuori ah prendilo lo vedi ok alla scat che strano però che fanno che personaggio folle 1 2 3 4 non mi ricordo vedi i neroni bruciati che ci siamo giocati no è tranquillo davanti dove dove va ma che ne so non lo so dove vado qua io proseguo si vai tranquillo ma hai paura dove vado non si capisce ah ma qualcosa sembra il tasto d'agget da io no 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 ah ecco facciamo male adesso te pista ne basta personaggi merda eh forse devi cominciare a farla quando sei già lontano o forse contro uno solo trova contro uno no niente per da solo funziona cioè mannaggia o ah a pelo che culo pelo pensavo di non fare eccolo ecco ecco successo qualcosa vabbè che ci vuole ma dimmi no no pensavo di aver visto una cosa invece niente mi sono sbagliato vai tranquillo ma io pensavo invece ma se tu vai avanti proprio tranquillo e me l'ignoro si tanto e manco fa un balletto attenzione 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 prender tempo prender tempo prender tempo prender tempo ecco perché volevano ma ci arrivi fin da si che ci arrivi super prender tempo prender tempo adesso devo sconfiggerli gioco ah ok balla ballo i wanna break che cazzo fa non si capisce non lo so però è molto beautiful of house eh anzi qua diventa wonder pulo house proprio guarda te pom e tu pensi che ho finito qua boom no solo che ma se infiniti stico oh vai adesso dici posso saltare non mi fa saltare ah no non devi andare di qua ancora ti dici di ammazzarlo dici lo ammazzo a colpi di break boom devo fa un balletto dici ah vai lo vedi e quindi ammazza personaggio assurdo oh salviamo meno male vadaci pure un cuore cuore a noi cuore oh tu dai comuque i boss e noc doveva essere qui sotto speriamo io io mi aspetto ma aspetto un boss qua eh ho visto la cosa proprio guarda guarda l'ho detto oh 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 questo c'ho le corna pure eh sì Ah, è Enoch Lui dobbiamo farli trasalire Eh, dobbiamo, sì, dobbiamo Ridimerlo Pure lui Che cazzo ti ridi Liberalo Mamma mia, te spacco Per me Conosco le tue mosse e io me ne vado Eh, scusa, 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 scusa Ho capito come funziona E per fortuna non ha le armi Perché se no Ah, dietro proprio Ah, l'ultimo colpo ti piglio Ma tu che mossa caricata hai? C'ho quella che fai C'ho questa Ah, ok Comunque no, io non devo dare colpi piano Tipo così Vedi Non mi freghi più Però se va Eh, devi fargli quella ralentata Quando fa Oh, attenzione Joe, c'hai la batteria quasi scarica Eh, ma ce la famo, dai Ehm, ce la faccio Joe Ma se tu, ragazzo, è l'uomo dei boss Ma fregato, però attenzione, qui Si rotola Ma ce l'ultimo Ah, l'hai preso E devi fare quella che di qua sotto se pare Sì, ti spacco Si soffri Ho un altro pelo Ho un altro pelo Cose matte qua succede Ehm, la peppa Dove vai, ma che fai Ahiaiaia Mamma mia Cacchio, t'ha preso tu Con tutto Sta a soffrire però Joe Sta a soffrire Oh Scappa che C'ho paura Ah no, è tornato come prima È tornato come prima? Ah no, mo' incorna pure Scappa adesso Porta le bolle No, le bolle sono la cosa che mi preoccupa di meno Dai, dai Per me l'ultimo è del basso Eccolo Che fa? Che dazzo si abbassa Oh che mosso fa? Aspetta Sì, via Ecco, vediamo cosa fa Ohiaiaia Salta Vabbè, easy Sì, guardate, ti ritrasporto Oh, oh Vabbè, devo avanti Ah, ok, bravo, bravo, bravo Eh, vabbè, easy Mentre te, ecco, amori Grande Eh Adesso hai capito, cambia Cambia Questo è quello vecchio Oh, mi hanno stupato ste palle che girano Via Così, pum Eh, la prossima deve essere morta, dai Io gli vado dietro, capito Ma gli vedo E vai Ancora Oh, mo' gliene faccio una Oh Ma che pazzo Mamma Ah, ecco Eh, non l'abbiamo visto Perché aveva le corne Tranquillo Guarda Non perde più armatura Adesso c'ha le corne basse Mi sono scordato che fa con le corne basse Eh, non so Oh Ah, fa sta mossa di merda Mamma mia, ci devi morire, ci devi Ci devi morire, così Così, 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 così Guarda, guarda, guarda Mamma mia, grande È tutto calcolato Uffa Vedete che mo' ho visto che è lampezza di bianco Lampezza di bianco Guardalo, guarda, è nudo È nudo Mamma mia, oh E la miseria Che è? Ah, vabbè, come prima Easy È più cattivo, no? Ma dove è più cattivo? Ah, occhio Ah, ok, sì L'ho sottovalutato un po' troppo Pezzo di merda È una lucciola Occi Ma dove stanno quelle lucciole? Mamma mia, mamma mia, lui lo copiiamo Tranquillo Vediamo se cambia Oh, ste lucciole Oh, c'ho la tutina Eh sì C'è proprio Tranquillo Grande Ma non si muore mai Mamma mamma Oh, ma fate il culo Hai visto, già? Stai, gli manca solo il paraminchio E il casino Oh, ste lucciole Vai No Ma ha bloccato Di modo? Sì, sì, ma mi ha bloccato Ma... Aspetta, eh Uno, due, tre Preso Potevo far figo A contare tempo Ah, vabbè, dai Morto Oh, là No, non è morto Vabbè, comunque Sempre un sesto attacco Tenga, prende Che io sono diventato Il signore dei boss Siamo riusciti a salvare Anche Eno Lo vedi? Pure lui è asessuato Ma invece Secondo me ci trovano Aver tutti e due gli organi Ma che ne so Cioè, sai che Mi ferire Che al momento Hanno la tutta E a posto C'ha nel pigiama E via Oddio, che mi sta a fare? Hai capito Figlio di puttana Oh, cielo No, aspetta Forse non ho letto bene Ah, hai salvato Eno E' questo ciò che conta Che è successo? No, tranquillo Mamma mia Il panico Il panico Cioè Mi piaceva quel personaggio Il pallava Ma è stato lui? Lucifer Quindi lui L'ha sfruttato Vabbè, la mano Lo sapevamo E' scontato Una trama scontata Già dal nome Lucifer Tu lo capisci Eh In effetti Non potrebbe essere più Luci Mai sottovalutare il potere Delle sicurezza Eh, vabbè Eppure quello della forza Ci mettiamo Stare Comunque Comunque Vediamo qua scene Che abbiamo già vissute Sì E' la solita trama Va bene Possiamo Soltarci qua Direi, no? Sì, va bene ragazzi È stato un piacere Ringraziamento a Tavo Che Solito pro Ha Sconfitto il boss Dai Tu hai dei contrasti Interiori Spirituali Vedi Sempre qua Sul pezzo Sempre Qui è sul gioco Quindi Vuol dire che Privatamente C'è qualcosa Che c'ho? Non lo so Stai combattendo Qualcosa Interiormente Chiamatene esorcista Non sai se sei Se sei Etero Ma che Gli scorsi pazzi Gioro tanto Non accadrà mai Fai uno stridlo Per Doc Non è quello Però Vabbè Bella Doc Va bene ragazzi Quindi Ora appena posso mettere pausa No, sei nero Eh sì Figata Ok Ragazzi È stato bello E ci vediamo Al prossimo gameplay Ciao belli Ciao 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 ciao